La biblioteca oggi cresce ancora, fin dal 1993 si è trasferita qua a Palazzo Panni e mano a mano ha andato a conquistare sempre nuovi spazi, sempre nuovi modi di fare biblioteca. Una biblioteca fatta tutta di scaffali e di libri, è diventata una biblioteca di spazi, di angolo morbido, di luogo anche di confronto tra le persone, di luogo di conferenze con l'auditorium al piano di sopra, di luogo a mezza via come questa nuova sala che siamo andati a inaugurare oggi, che è la sala delle arti del Trentino, sala che ospita le collezioni librarie che si occupano di arte e del nostro territorio, del nostro Trentino, ma anche la sala che può dare spazio spostando i tavoli e grazie all'infrastruttura mediatica che ha, insomma tramite il proiettore, dare spazio anche per fare delle lezioni, dei momenti per le classi che vengono a visitare la biblioteca e fare attività presso la biblioteca. Quindi la nostra biblioteca prende sempre più respiro, continua a crescere, cresce con la cultura che non può essere qualcosa di fermo, di statico, qualcosa che è immateriale, ma che nell'ampliarsi delle sue infrastrutture dà sempre più possibilità ai cittadini di venire, di trovare in questo luogo non solo i libri, non solo l'occasione di lettura, ma anche l'occasione di confrontarsi, di incontrarsi, l'occasione di un salotto della cittadinanza, il salotto della cultura, il salotto buono per di fuori e per di dentro. Questa è la volontà, questa è la ragione per cui fin da quasi dieci anni fa, ma comunque negli ultimi cinque anni, si è lavorato fortemente per la volontà dell'amministrazione e comunque anche per la passione della struttura comunale degli uffici a ampliare la nostra biblioteca, a ridurre sempre di più gli spazi dei magazzini e quindi anche le grandi sale adibite a magazzino andare a liberarle dai libri in deposito per trasformare in luoghi dove i libri siano invece utilizzabili, consultabili, direttamente accessibili al cittadino e magari con qualche servizio in più. Qui abbiamo la possibilità di ascoltare vinili, di ascoltare cd, di vedere filmati anche tramite appunto questo proiettore, ma anche questa formula della sala che a tutti gli effetti è una sala multimediale. Un'offerta in più, una sala che ha dentro anche una wireless sempre attiva, un'offerta che completa passo passo quello che la biblioteca di Arco vuole offrire ai suoi cittadini. La biblioteca di Arco ha due anime, quella legata alla storia della sua fondazione, il fondo Bruno Emmert, legata alla storia del Trentino, e quella legata più moderna all'arte, sia per il grande concittadino Segantini, sia per la galleria civica importante che troviamo nello stesso palazzo e che si andrà ad ampliare in sinergia con la biblioteca. Ecco, la nuova sala riunisce un po' queste due anime. Era necessario trovare uno spazio confortevole e comodo perché i nostri lettori potessero trovare sia i libri d'arte sia i libri storia del Trentino. Naturalmente è uno spazio aperto, accessibile, tutti i libri sono consultabili. Per i ricercatori c'è la sezione del fondo antico che non è immediatamente accessibile, ma è consultabile attraverso i colleghi bibliotecari. Il fondo antico rappresenta metà del nostro patrimonio, valutate sono circa 50.000 pezzi, ed è la storia, perché questa biblioteca è una biblioteca recente, è nata nel 1961, ma è nata grande, con già 50.000 documenti, grazie al suo allascito del concittadino Bruno Emmert, che aveva una biblioteca privata conosciuta in tutta Italia e in tutta Europa. La cittadinanza di Arco, attraverso il suo consiglio, ebbe il merito di riconoscere il valore e di farsi lasciare questo patrimonio, che ora è un patrimonio di tutti i cittadini di Arco. Quindi noi siamo ben disponibili per gli studiosi, per i ricercatori, per i cittadini curiosi, di aprire e di permettere la consultazione di questi documenti, che sono veramente interessanti, che vanno da libri del Cinquecento fino agli anni Sessanta, con un'attenzione particolare per la storia, storia risorgimentale e napoleonica, calcolata che ne abbiamo circa 14.000, alcune copie uniche. Grazie.